Buongiorno, prima di iniziare la conferenza in avvicinamento di Italia e Inghilterra abbiamo tre annunci, due di carattere extrasportivo e uno sportivo. Per in primis siamo lì di annunciare che la federazione italiana rugby e Avis hanno raggiunto un accordo per cui Avis diventa top sponsor della nazionale italiana rugby maggiore maschile, Italia under 20 e Italia maggiore femminile. Il noto brand di nolleggio auto farà il suo debutto questa sera allo stadio Monico di Treviso in occasione del match Italia-Inghilterra under 20 alle 20 e 15 abbinandosi al già presente marchio Suzuki nel retro pantaloncino della visa azzurra. Intanto se approfittiamo per una foto con Michele e il nuovo top sponsor su pantaloncino. Si vuoi alzarti? Giustamente. Grazie sempre in tema di annunci, ricordiamo che la federazione italiana rugby supporta attivamente la campagna realizzata dalle zebbre Parma in sinergia con Chiesi, volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle maltierare attraverso il rugby. Quest'anno ad accompagnare la campagna sarà il claim Passa la palla, passa la parola, per ricordare come sia importante diffondere la conoscenza e la consapevolezza sulle maltierare. La catena di passaggi virtuali che coinvolgerà a partire da oggi anche gli atleti della nazionale italiana rugby maschile si chiuderà il 28 febbraio 2024 in occasione della giornata mondiale del martierare. Terzo annuncio di carattere sportivo, ci saranno due cambi nella formazione, uno nel primo 15 titolare e di conseguenza in panchina. Non saranno a disposizione Ange Capuozzo a causa di una gastroenterite, sarà sostituito da Lorenzo Pani con il numero 14, mentre in panchina subentrerà al posto di Lorenzo Pani Federico Mori. Non sarà presente anche Edoardo Iachizzi a causa di un tramo alla spalla sinistra e reagutizzarsi in un tramo alla spalla sinistra, sarà sostituito da risordiente Alessandro Iseghor. Per le domande iniziamo con la stampa italiana per poi collegarci alla stampa inglese. La prima parte sarà in Italia e la seconda in inglese. Grazie. Prego Francesco. Dopo le tue partite, la terza e la quarta del mondiale, eri tra i più delusi, diciamo così, dei tuoi compagni. Come si rimbalza, come dicono gli inglesi, bounce back da una delusione come quella? Come avete psicologicamente, non parlo chiaramente fisicamente, come si rimbalza da una cosa del genere? Ma ovviamente è un processo abbastanza lungo e complicato che può essere riassunto in, insomma in inglese si dice il back to basic, no? Almeno individualmente per me è stato così e penso che per molti dei miei compagni sia stato più o meno lo stesso. Ovviamente dopo il mondiale abbia avuto un periodo di riposo e questo qua è servito per prendersi conto un po' di cosa era successo, di analizzare il periodo e analizzare come poter andare avanti. E questo back to basic, ritornare un po' alle cose che ti danno confidenza, ti danno fiducia è stato fondamentale. E poi all'inizio di stagione che abbiamo avuto con le due franchigie, perché poi anche le Zebre hanno sicuramente implementato quelle che erano le loro prestazioni, penso che in generale possiamo essere più che soddisfatti del modo in cui siamo usciti da un periodo così, quindi sono pienamente confidente che insomma domani sarà una grande prova per noi dove vorremmo mettere in campo tutta la voglia di rigiocare davanti ai nostri stifosi e in questo torneo così importante. Prego Alessandro, un attimo aspettiamo il microfono. Sì, la nostra difficoltà di solito contro queste squadre forti come l'Inghilterra sono sempre i primi minuti, noi ci mettiamo un po' di tempo, ora si stava ragionando fra di noi, fra giornalisti, si diceva, vediamo che cosa succede al ventesimo, ecco voi come pensate di approcciare, lì c'è un tema anche molto importante che è quello della disciplina, ho visto che è stato istituzionalizzato l'uso dell'arbitro durante l'allenamento, questo vi è servito, è uno dei focus? Sì lo è, nei primi minuti della partita sappiamo che sono fondamentali proprio per poter iniziare bene, per poter mettere subito sotto pressione la squadra avversaria e abbiamo lavorato sì, insomma dal punto di vista della disciplina sicuramente avere l'arbitro sempre a disposizione è fondamentale proprio per poter avere un feedback costante di come ci alleniamo e su cosa magari possiamo evidenziare per dare delle immagini chiare all'arbitro per poter essere nel giusto nella maggior parte dei casi. Per quanto riguarda i primi minuti della partita noi vogliamo sempre iniziare forte, diciamo quello che c'era un po' costato soprattutto il 6 nazioni scorso era stato principalmente l'esecuzione all'inizio ed è una cosa su cui abbiamo lavorato tanto magari per poterci mettere un po' meno sotto pressione soprattutto nei minuti iniziali e questo penso che sia un buon passo, ovviamente domani dovremo iniziare fortissimo, l'Inghilterra è una squadra che è estremamente efficiente in tutte le zone del campo, quindi non spregano energie nella loro metà campo e se possono metterti in difficoltà riescono a sfruttare ogni tuo errore, quindi dovremo essere bravi a essere precisi nell'esecuzione ma anche a non metterci troppo sotto pressione soprattutto nei primi minuti. Ci sono altre domande alla stampa italiana? Prego. Sì, quanto peserà la mancanza di Capo Ozzo per il vostro attacco? Che è un giocatore molto importante. No, sicuramente è un giocatore molto importante, sappiamo le qualità che ha, le qualità che ha soprattutto in attacco, il modo in cui riesce a creare lo spazio, questo però penso che Lorenzo abbia fatto un inizio di stagione fantastico e personalmente, ma poi credo che questa cosa sia reciproca in tutta la squadra, abbiamo la piena fiducia in lui, è un giocatore anche lui elettrico, oltre ad avere comunque il fisico dalla sua parte, perché è un giocatore anche con una prestanza fisica abbastanza importante, quindi non mi aspetto nessun calo di prestazione vista la mancanza di Ange, nonostante ovviamente sappiamo le sue qualità, ma sono convinto del fatto che Lorenzo sarà il più efficace e dominante possibile domani. Ci sono altre domande? Diciamo che è sempre un po' difficile il giorno prima, ma di solito bisogna vedere un po' le condizioni meteo, che ovviamente sono fondamentali per poter magari iniziare bene la partita, ma detto ciò, se possiamo metterli sotto pressione fin dal primo o secondo lo faremo, quindi sicuramente l'opzione primaria sarà di calciare noi. Diciamo che a livello tecnico ovviamente è ancora un periodo in cui abbiamo inserito tante cose, quindi magari non si è ancora vista effettivamente come vorrà poi approcciare tutte le situazioni, perché ovviamente quando ci sono tante cose da dover guardare, ovviamente è un po' difficile poi dopo andare a marcare esattamente la propria identità come allenatore. Detto ciò penso che dia molta importanza all'aspetto mentale e questo è stato fondamentale per noi, insomma metterci nella giusta posizione per poter affrontare una partita del genere, per poter creare, per poter lottare per qualcosa di più grande, e questo ovviamente è una cosa che avevamo già iniziato con Kieran, ma che è un percorso che continua, che prosegue e questo per me è fondamentale, sono particolarmente ispirato da questo, proprio perché penso che riuscire a mettere tutti quanti sulla stessa barca e far lottare per un obiettivo comune sia la cosa principale, insomma la fonte principale di successo che possiamo creare. C'è qualche tecnica, diciamo, o solo dialogo o magari nel momento in cui parlate voi, come lavora su questo? No, sì, è bravo in questo, cerca di dare il giusto spazio senza sovraccaricare i ragazzi e questo è un qualcosa che sicuramente ti permette di esprimerti al meglio sia nelle decisioni che poi dopo nell'esecuzione, perché ovviamente sovraccaricare troppo i ragazzi non sempre è positivo, proprio perché magari perdono di vista quello che è l'obiettivo di tutto, ovvero eseguire al meglio, e invece lui ha un buon bilanciamento, diciamo un buon equilibrio di queste due cose, ovvero di magari far prendere delle decisioni ai ragazzi stessi, ma poi dopo quando c'è il momento di dire si fa una cosa, è così che si fa e questo ti permette anche di focalizzarti poi dopo sul come la esegui, come farla nel miglior modo possibile. Il fatto di avere qualche allenatore in più in determinate aree, come Philippe Dussi, German Fernandes, ovviamente sono stati fondamentali secondo me per andare a curare quelli che poi vogliamo che siano le nostre aree più forti, ovvero i piccoli dettagli, le piccole cose su cui dobbiamo lavorare settimana per settimana. La parola chiave per quanto mi riguarda e per quanto abbiamo cercato di esprimere col gruppo sarà il fuoco che abbiamo dentro e questo è un qualcosa che dobbiamo, indipendentemente da come uno gioca, da come uno si esprime, è un allenatore latino e questo sicuramente ci accomuna in questo aspetto, l'aspetto della passione, l'aspetto di voler giocare con tutto quello che abbiamo, poi sicuramente tutto il resto si potrà andare a valutare, ma quell'aspetto là dovrà essere prorompente domani. Diciamo che il risultato non dipende soltanto da noi, se dipendesse soltanto da noi io lo prometterei ovviamente, ma purtroppo questa cosa, insomma giochiamo contro un avversario che si prepara nello stesso maniera in cui ci prepariamo noi e insomma quindi non sempre tutto dipende da quello che possiamo fare. Detto ciò posso promettere al 100% che noi come squadra abbiamo fatto il tutto il possibile per poter arrivare prima di tutto a questa partita pronti, per poter essere pronti fisicamente, mentalmente e tecnicamente quanto più possibile e insomma domani sarà sicuramente una battaglia fisica da vedere e questo sarà la cosa bella di tutto e poi dopo l'agonismo che ci metteremo sarà sicuramente senza uguali. Grazie. 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 Grazie.